allora oggi vi voglio far vedere una una chicca una cosa particolare questo è un disco a 78 giri dal titolo parlami d'amore mario cantato dal tenore crivella ma la particolarità di questo 78 giri è che soltanto 14 centimetri di diametro ecco da qui da questa inquadratura potete renderli conto adesso ve lo faccio ascoltare scusate lo mettiamo dall'inizio questi sono purtroppo gli inconvenienti della diretta direbbe qualcuno un sorriso di stella negli occhi tuoi blu anche se ha perso il destino domani sarà oggi ti sono vicino per che sospirà Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.